La figura umana, riprendo la figura umana e fanno una contrapposizione tra le persone, l'uomo e la natura che lo circonda. Il materiale appunto per questo utilizzo il legno, perché è un materiale naturale riciclabile. Secondo me a giorno d'oggi vogliamo vedere come utilizziamo i materiali e perché può. E quindi il legno l'ho sempre trovato, è un materiale caldo, a parte dei ari che è vicino, ma è un materiale sostenibile, quindi questo lo utilizzo.